In questa domenica l'Omelia l'ha fatta San Paolo, la seconda lettura è veramente la chiave di questa parola che è così urticante, che in fondo scandalizza tutti, perché in questa invidia di cui parla il Signore nella parabola siamo tutti, da bambini fino a oggi, fino forse al giorno della morte, non lo so. L'invidia che è uno sguardo storto, uno sguardo che non è puro, che non è diritto, uno sguardo sporcato, uno sguardo che è stato come iniettato di malizia. L'invidia per la quale è morto Cristo, come appare nel Vangelo. L'invidia per la quale è entrata nel mondo la morte e ne fanno esperienza coloro che appartengono al demonio, che è il padre dell'invidia, Lucifero, che è decaduto proprio per invidia. Esattamente ciò che appare oggi in questo Vangelo, che è anche un bellissimo midrash, cioè una bellissima spiegazione di ciò che è il peccato originale. E come dal peccato originale possiamo essere redenti? Il peccato originale che è l'origine delle nostre sofferenze. È vero che siamo tutti battezzati ed è stato cancellato il peccato originale e quindi siamo di nuovo figli di Dio. Ma la verità è che tutti noi portiamo delle ferite, portiamo questo che dice il Catechismo, il fomite del peccato. E nell'invidia appare con tutta la sua forza, l'invidia che è sempre relativa a Dio. Tutte le volte che noi invidiamo un fratello, una sorella, è un'invidia rivolta a Dio, indirettamente. Per questo dice, voi invidiate me che sono buono, non invidiate il fratello a cui ho dato la stessa paga. Questo è un principio molto profondo, perché attento quando invidia, attento quando un ragazzo, un figlio, una figlia è invidioso del fratello, della sorella. C'è un'invidia più grande, più profonda dalla quale sorge e scaturisce l'invidia tra fratelli, è quella contro Dio. Perché il demonio è riuscito a sporcare lo sguardo che abbiamo su di lui e non lo riteniamo buono. Non lo riteniamo un padre pieno di misericordia e tenerezza che vuole il nostro bene, che pensa in tutto e provvede in tutto al nostro bene che è la salvezza della nostra anima. San Paolo, fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ma se vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero cosa scegliere. E' beato lui che aveva questo dubbio nel fondo del suo cuore. Se andare con Cristo o restare in terra per amare, per lavorare con frutto. Non so, noi sappiamo questo dubbio, io credo che abbiamo il dubbio, non c'è dubbio, forse, magari avessimo anche noi questo dubbio, ma probabilmente, no no no, rimaniamo qui, stiamo tranquilli, senza tante malattie, senza tanti problemi, che è meglio stare qua. E questo, che sembra una battuta, è esattamente la chiave per comprendere il mistero enorme che si cela nella parabola del Signore e che oggi vuole rivelare a tutti noi. Perché? Per me. Il vivere è Cristo o no? Questo è il punto. Da qui nascono le invidie, le gelosie, le guerre, le lotte, gli odi, i rancori. Perché? Perché per me la vita non è Cristo. Se la vita fosse Cristo, io sarei già nel cielo. Io già, in un certo senso, fluttuerei in questi pensieri del Signore che non sono di questo mondo. Direi già in un'altra dimensione, sarei un cittadino celeste. Il mio sguardo non potrebbe, ma proprio naturalmente, avere invidia. Perché il mio sguardo sarebbe uno sguardo diritto, verso mio padre. Perché se la mia vita è Cristo, Cristo dentro di me vive nel padre. Io già vivo nella certezza, che è l'esperienza, che Dio mi ama, che Dio provvede alla mia vita. Anche nelle situazioni più difficili, anche nei momenti più dolorosi, Dio mi sta ammaestrando, Dio mi sta conducendo con amore. Perché le sue vie non sono le mie. Lui non si piega alla mia agenda. Lui ha un'altra agenda, che è quella della mia salvezza. E non solo, ma attraverso di me la salvezza di molti altri. E possiamo constantemente, dice Isaia, tornare a Lui proprio perché in questa agenda è prevista sempre la misericordia. Finché siamo in questo corpo, finché siamo in questa vita terrena, c'è sempre la possibilità di tornare a Lui. Di convertirci. Quello che è successo a San Paolo, che è una conversione, noi chiamiamo conversione di San Paolo. Ma se la analizziamo bene, vediamo che smonta anche lì tantissime nostre certezze, o tantissimi nostri schemi. Perché le vie di Dio sorrastano. Anche le nostre idee di conversione, anche le nostre idee di approccio con il Signore, che sono tutte religiose naturali. Per cui andiamo al Tempio, come anche ci sono in tutti i tempi orientali, vedete queste brocchette di purificazione, perché tutti sappiamo, tutti gli uomini sanno che devono purificarsi da qualcosa. Ma non funziona così, perché San Paolo correva ad uccidere i cristiani. San Paolo non pensava proprio di incontrare il Signore. Anzi, per lui era morto e sepolto, e la sua resurrezione era un'impostura, che stava avvelenando la purezza della religione, e quindi stava consegnando gli ebrei a Roma, al tradimento della elezione. San Paolo non aveva, fremeva, dice, per di odio e di rancore verso questi eretici, lui aveva la purezza. Quindi nessuna preparazione secondo gli schemi umani. Non era lì soffrendo, vorrei convertirmi, vorrei cambiare vita. No, 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 lui era perfettamente convinto di quello che faceva. E improvvisamente ha incontrato il Signore. Ha incontrato questo abbraccio pieno di misericordia, che è sconvolgente. Perché prende un assassino e gli dice, guarda che lo stava uccidendo, perché mi perseguiti, perché mi uccidi? E non solo lo abbraccia, neanche gli dice che lo perdona. Perché il perdono, la misericordia, il cambio radicale di vita di San Paolo era implicito nella chiamata. Tu darai la vita per me. Tu soffrirai per me. Cioè, tu soffrirai per chi stai uccidendo in questo momento. Pensa che cambio radicale di mentalità, che metanoia. E quindi che cambio di vita, che cambio di cuore, che cambio di criteri. In questo amore sconvolgente, per cui Paolo dirà, io non sono neanche degno di essere chiamato apostolo. Io sono l'ultimo, l'ultimo. Un pochino risuonano qui le parole del figlio prodigo, quando dice, non sono degno di essere chiamato figlio. Mettimi là come l'ultimo dei garzoni, mi basta stare all'ultimo posto in casa. Basta che mi fai tornare a casa. Basta che mi fai tornare nella tua comunione, in quello che avevo sperimentato, prima dell'inganno che mi ha portato a cercare la vita laddove non c'è. Così San Paolo, che ha conosciuto questo amore gratuito, che lui non sospettava esistere, che ha cambiato completamente la sua visione su Dio, da questo momento, da questo amore che lo ha intercettato e lo ha posto dentro questo alto forno, che è capace di convertire, cioè di cambiare natura ai sassi e farli diventare figli di Abramo, lui dice, per me è vivere Cristo. Per cui la mia vita è lavorare per Cristo e portare il frutto di ciò che ha dato la vita a me, annunciare il suo Vangelo, perdere la mia vita per Lui. Allora il denaro di cui parla il Signore è Cristo, il denaro è intimità con Lui, il denaro è la vita eterna, che è Cristo. Per questo dice la parabola, il regno dei cieli è simile, cioè nel regno dei cieli, che sovrasta la terra, che sovrasta i criteri del mondo, questo è la mentalità. Nel regno dei cieli questa è la visione, questi sono i criteri, che non sono quelli vostri. Per questo i miei criteri, i miei piani, i miei progetti, le mie strade, i miei cammini, sono completamente diversi dai vostri, che sono appiattiti sulla terra e che come fine hanno una parete, che è la morte. Il mio figlio Gesù Cristo ha vinto la morte, dice il Signore Dio Padre, a tutti noi oggi attraverso questa parabola. Il mio figlio ha vinto la morte. E questa vittoria sulla morte è ciò che fa vivere te oltre la morte ogni istante, oltre la morte che è l'inganno, che fa pensare male di me, che fa pensare male di mio padre, che fa pensare male quindi della mia vita, che quindi mi fa invidiare, mi fa desiderare ciò che non ho, mi fa pensare a isole che non esistono, dove potrei essere felice, dove potrei realizzarmi, conventi, relazioni, migliori di quelle che sto vivendo oggi qui, sorelle molto più accondiscendenti, sorelle meno erotiche, sorelle che possono capirmi, o se vogliamo un marito migliore, che non è quello che io pensavo fosse quando mi sono sposata, o quando mi sono sposata, una moglie diversa, che è un classico con il quale iniziano tutti i divorzi, mi sono svegliata una mattina e non ho trovato l'invasore, anzi sì, ecco, tutti cantano bella ciao, quando vogliono divorziare, perché una mattina si svegliano, dopo vent'anni, quindici, sette, otto di matrimonio, e trovano un invasore nel letto, dice questo non è il mio marito, io non pensavo che fosse lui, io pensavo un altro quando mi sono sposato, e con questo abbiamo chiuso questo inganno profondo, perché dietro c'è l'inganno sulla propria storia, sulla propria vita, per questo che cosa oggi è giusto per te? Questo sarebbe l'esercizio da fare tutti i giorni, la mattina e la sera, oggi cosa sarebbe giusto che si compisse nella mia giornata? Questo pregando, mi ti dà un quadernino, oggi sarebbe giusto se la sorella mi interpellasse su questa cosa dobbiamo fare, per esempio, e poi la sera, quello che è giusto e quello che è ingiusto, è ingiusto perché non mi ha interpellato, è ingiusto perché non dovevo avere questo mal di denti, è ingiusto perché non mi hanno pagato come dovevano pagarmi, è ingiusto perché mio figlio ha fatto così, è ingiusto perché potevo essere un pochino più alto, una ragazza potrebbe dire è ingiusto perché questo corpo non mi piace, i ragazzi non mi vedono, quindi mi devo spogliare ancora di più, eccetera, questo, invece no, è un'altra cosa la giustizia di Dio, quella che appare nel Vangelo, un amore infinito, infinito, a tutti, nella stessa identica dimensione, in forme diverse, ognuno siamo amati diversamente, perché Dio ci lascia liberi, Dio ci lascia liberi, anche di sperimentare, magari fino al fondo, o al fondo di una giornata, o al fondo della vita, di non avere nessuno che ci ama veramente, come questi operai che non sono stati assoldati da nessuno, ma toccare, toccare Cristo, che passa sicuramente nella mia vita, ogni giorno, nel momento in cui meno me lo aspetto, Signore non c'è nessuno che mi metta in una piscina, dirà il paralitico, ma tu, ma tu, Signore, mi hai messo, molto più che nella piscina, ti sei donato a me, senza riserve, hai cambiato radicalmente la mia vita, per questo, la mia vita è vivere, e sei tu, allora, che tu sia glorificato, come dice Paolo, nel mio corpo, questo è il mio lavoro, questo è la mia mercede, questo è il mio stipendio, questa è la mia gioia, che la gloria di Dio, cioè la presenza di Dio, che è la presenza di Cristo nella mia vita, trasformi radicalmente tutto quello che faccio, per questo è impossibile invidiare, è impossibile giudicare, è impossibile mormorare, è impossibile pensare male, tu vedrai un cristiano, vedrai un uomo trasparente, un uomo che loda e benedice il Signore, sempre, benedirò il Signore in ogni tempo, anche nei momenti di approva, anche nei momenti difficili, perché? Perché questo povero grida, e il Signore lo ascolta, perché sai perfettamente, che Dio è tuo padre, e che Gesù Cristo colma la tua vita, della vita eterna, dell'amore senza limiti, in ogni istante della tua vita, e che tutto, ma proprio tutto, concorre al bene, tutto è perché tu possa entrare, definitivamente nel cielo, e la mia vita è una corsa, la mia vita è un lavoro, la mia vita è una, così, una lotta, un combattimento, per difendere Cristo dentro di me, e perché la gloria di Cristo, possa arrivare, attraverso la mia vita, attraverso la mia vocazione, attraverso quello che devo fare, o quello che sono, a tutte le persone che sono accanto a me.